dalle lettere di Bortolo con le quali chiuderemo un po' tutto questo tragitto fucile Mannlicher Carcan modello 1891 calibro millimetri 6,5x52 la ripetizione manuale con un turotore girevole e scorrevole serbatoio con pacchetto Mannlicher da 6 colpi lunghezza totale millimetri 1280 lunghezza della canna a millimetri 770 peso chilogrammi 3,800 mirino anteriore a cresta mirino posteriore a quadrante con zoccolo graduato fino a 2000 metri velocità alla bocca 700 metri al secondo vedi? ho imparato la poesia e bene ma solo perché mi toccava tirano voci nel reggimento che le lezioni siano finite che presto dovremo andare vorrei dirti di star tranquilla che tra poco sarà finita e l'Austria non sa sparare a Trento per primavera e Trieste ha già pronte le bandiere Marta bugie non te ne so non raccontare tu sei quella che ha studiato io ho solo paura per me per te e per le bambine io ho solo paura per me per te e per le bambine vorrei fermarmi un attimo su questo concetto come mai la frase di prima tutti dicono che dura poco un paio di settimane e poi e poi è finita e tanta l'ora vale andare perde il suo potere ipnotico ed assume un valore retorico solo nel momento della percezione del suo intrinseco dramma perché non pensare alla guerra come ad una soluzione impossibile invece che volta all'unica strada possibile per il fascista che è in noi ripensare le proprie azioni è solo una perdita di tempo